cari amici della domania buona giornata a tutti sono le 9 8 minuti di giovedì 16 febbraio 2023 pace gioia a tutti voi cari amici in ascolto e che la luce della parola di dio guidi i nostri passi nel corso di questa giornata sulla via della verità del bene sulla via della pace andiamo al nostro programma la lettura cristiana della collega della storia vorrei incominciare cari amici con il nostro pensiero che vorrei incominciare con l'inizio del messaggio della regia della pace 25 gennaio perché insomma era passato un po in diciamo in disparte visto poi quello che diceva la madonna nel cuore del messaggio stesso quando diceva che l'uomo non vuole dio e per questo va verso la perdizione però l'inizio messaggio che è sempre più importante a mio parere la madonna ci invitava a pregare con lei perché satana vuole l'odio satana vuole la guerra e vuole appunto la guerra nei cuori e fra i popoli quindi questa parte del messaggio a mio parere sta a indicare una preoccupazione che c'è per quanto riguarda l'andamento della guerra perché adesso sembra sembra che la guerra sia una fase di stallo invernale e quindi circoscritto comunque in alcune zone del sud est dell'ucraina relativamente a cosiddetto donbass e quindi diciamo non non ci sono quelle minacce che abbiamo sentito più volte che riguardavano soprattutto l'uso di armi nucleari o l'ostentazione di nuove armi come si è visto e comunque io ho imparato diciamo già dalla guerra di bosnia per la verità che le notizie del tempo di guerra sono notizie diciamo così centellinate e comunque non è che abbiano come fine l'informazione hanno come fine diciamo il condizionamento dell'opinione pubblica è ovvio è così e sarà sempre così noi dobbiamo averne ovviamente la consapevolezza di questo e quindi fare discernimento però fare discernimento è una cosa facile se non è l'informazione di quel che in realtà accade noi abbiamo la grazia della presenza della madonna che comunque ci dice come vanno le cose detto in parole povere la madonna ci ha detto sempre i pericoli che stavamo correndo in particolare ci ha ripetuto recentemente quello che aveva detto 30 anni prima e cioè che satana vuol distruggere le nostre vite e il pianeta sul quale viviamo quindi ovviamente e poi all'inizio della guerra in bosnia della guerra scusate l'inizio dell'invasione dell'ucrania da parte della russia voi sapete che quel messaggio del 25 febbraio dell'anno scorso fu molto forte la madonna come mai aveva invitato a pregare con lei perché satana stava visitando la terra con suo potere di distruzione di paura e di morte e quindi ci invitava alla preghiera corale per fermarlo perché ci c'era perché satana non prevalga quindi l'allarme della madonna quel 25 quel 25 febbraio dello scorso anno mentre diciamo l'informazione l'informazione diciamo l'informazione globale alcune addirittura negavano che ci fosse un'invasione alcuni dicevano che era sì poi la russia l'aveva chiamato operazione che aveva dovuto durare una settimana diciamo in realtà era proprio una visita di satana sulla terra quel tentativo di scatenare una guerra col quale con la quale satana aveva prevalso quindi la gravità di quella di quel giorno di quella invasione noi l'abbiamo saputa dalla madonna non l'abbiamo saputa dai mass media i quali mass media anche il giorno stesso i giorni dopo specialmente quelli europei non credevano a quello che stava succedendo e neanche il governo ucraino il giorno prima aveva detto poi non so se era una mossa anche questa diciamo di carattere per sviare l'opinione repubblica aveva detto che mai più pensavano che la russia avesse portato un attacco direttamente a chieve ma in realtà era successo così per cui io sono preoccupato benché è sempre che sia una fase di stallo sono preoccupato per il messaggio che ha fatto la madonna adesso il 25 gennaio quando la madonna ha ripetuto quello che aveva detto il 25 febbraio dello scorso anno pregate con me perché satana vuole l'odio e satana vuole la guerra e vuole sobbidare i cuori e i popoli quindi vi leggo questo passaggio pregate con me per la pace perché satana vuole la guerra e l'odio nei cuori e nelle nazioni aveva mai usato questa espressione l'odio nelle nazioni cari amici allora volevo dirvi che non mi lascio come dire catturare dalla attuale informazione come se diciamo non ci fossero pericoli la madonna ha segnalato il pericolo è chiaro che dietro le quinte si sta ovviamente organizzando quello che noi non sappiamo che potrebbe essere un allargamento della guerra che potrebbe essere l'uso di nuove armi non sappiamo cosa si sta cosa si sta facendo sappiamo che la madonna ci chiede ci chiede in questa situazione come lei la vede qualcosa ancora di più impegnativo di quanto aveva chiesto nel gennaio del 1991 e nell'agosto del 1991 quando crolla l'unione sovietica come sapete allora ci aveva chiesto sia a gennaio sia a agosto ci aveva chiesto una novena di digiuno e preghiere stavolta la madonna nel gennaio di quest'anno ci ha chiesto praticamente quello che chiese nel luglio del 25 luglio del 2019 pregate giorno e notte difatti cosa ci ha chiesto la madonna nel gennaio di quest'anno ci ha chiesto siccome appunto satana vuole la guerra e l'odio nelle nazioni voi pregate per me pregate con me poi ha detto pregate perciò pregate e nelle vostre giornate fate sacrifici con il digiuno la penitenza perché dio vi doni la pace cioè praticamente la madonna ci chiede di pregare tutti i giorni con lei di accompagnare la preghiera giorno per giorno con sacrifici col digiuno e con la penitenza evidentemente la situazione nel cuore e nei progetti degli uomini è molto più grave di quello che noi pensiamo perché la madonna legge nei cuori non ha bisogno di fare inchieste o chissà che cosa lei vede già il futuro conosce già il futuro e perciò quando vede che nel futuro si sta premendo la strava dell'autodistruzione ci chiede di impedirla con la nostra preghiera con il nostro digiuno con i sacrifici con la penitenza cari amici tanto più che adesso ci avviciniamo al tempo quaresimale fra non molto settimana prossima sono moderato c'è già il mercoledì delle ceneri quindi quello che sono qui a dirvi cari amici è proprio questo cioè che noi abbiamo in mano la madonna ci ha messo in mano un'arma guardiamo bene di fronte a questa realtà del mondo che è una realtà di odio che percepiamo che conosciamo perché possiamo dire che è un'umanità in ebollizione un groviglio di vipere di tutti contro tutti ho ricevuto un email l'altro ieri che mi ha fatto molta impressione ho chiesto anche degli approfondimenti che mi parlava della situazione in Sudafrica specialmente dei bianchi in Sudafrica la situazione di un italiano che va giù tutti gli inverni a passare le sue vacanze lì e mi dice che è una situazione di disperazione incredibile quello che succede cioè possiamo dire che al di là delle guerre fra le nazioni ci sono le guerre all'interno delle nazioni che è impressionante ho voluto vedere in questi giorni perché mi piace anche coltivare la storia un po' ho visto in questi giorni io ogni tanto metto da parte qualche film da vedere specialmente se sono di qualità qualche giorno fa ho voluto leggere un film che ha preso un sacco di Oscar sulla figura di Gandhi molto interessante però alla fine del film alla fine del film si tiravano le somme e cioè che questo grande matma vuol dire matma vuol dire grande anima questo grande uomo che conosceva anche bene il cristianesimo comunque era profondamente hindù non dimentichiamolo in fondo ha fallito nel suo obiettivo perché perché lui voleva un'india fatta da musulmani e da hindù e non ci è riuscito non ci è riuscito perché l'odio degli hindù per i musulmani e dei musulmani per hindù era tale che era impossibile evitare una guerra civile e difatti la guerra civile era stata lì per scoppiare sarebbe stato un macello si è riuscita ad arginare perché comunque in un certo senso c'è stata anche l'aiuto di Dio forse anche l'abilità politica dell'inghilterra che alla fin fine facendo poi i suoi interessi per la verità ha diviso l'india in due stati il pakistan da una parte e l'india dall'altra per cui quei territori dove gli hindù erano in maggioranza sono diventati territori dell'india quei territori dove l'islam era maggioritario hanno formato il pakistan e quindi è stata spezzettata l'india in poche parole cioè nonostante l'india adesso è il paese l'india è il paese più popolato del mondo superato anche la cina quindi da questo punto di vista direi le prospettive che ha davanti sono sicuramente molto promettenti e anche una democrazia alla fin fine non dimentichiamolo cosa volevo dire io? volevo dire che questa che era una festa dell'indipendenza una festa dell'indipendenza perché comunque Gandhi era uscito comunque ha convinto gli inglesi che dovevano andarsene l'ha fatto con la non violenza con il digiuno con la capacità di leadership morale e spirituale ha convinto gli inglesi che nel 1947 se ne sono andati ma ha lasciato un'india al limite dell'incendio cioè neanche lui era in grado di domare questo incendio fra musulmani e hindù lui voleva che fosse un'india unita con musulmani e hindù ma non ci è riuscito ora voi pensate che una volta che sono andati i confini delle due nazioni fra India e Pakistan ben 14 milioni di persone a piedi si sono ricate dall'uno o dall'altra parte perché non volevano vivere i musulmani non volevano vivere in India e gli hindù non volevano vivere nel Pakistan quindi che si stava formando come stato quindi una migrazione la migrazione più grande del mondo che ha coinvolto 14 milioni di persone in questa migrazione sono morti un milione di persone io ho fatto questo piccolo esempio per dire i cari amici allora tutto sommato la situazione certamente era ribolliva sappiamo poi che l'intolleranza è tipica dell'islam ma anche dell'induismo nel medesimo tempo e quindi sono stati lì per fare la guerra l'uno contro l'altro poi avendo avuto le bombe atomiche tutte e due si sono un po' placati insomma questo per dire cari amici che che veramente come dice bene la Madonna la radice è l'odio cioè l'incapacità di vivere come fratelli adesso ritorno cari amici a quello che vi ho detto prima perché è una cosa che mi ha colpito ma faccio il raccordo vi ho parlato di quello che è successo in India e adesso è quello che sta succedendo forse anche nel nel Sudafrica vorrei anche avere un'informazione più esatta cioè prima erano i bianchi che erano diciamo era all'inseno del razzismo sopprimevano le minoranze di colore adesso pare che siano proprio i bianchi a essere i pari della società almeno in parte cioè mi colpisce molto questo fatto perché colpisce anche l'America gli Stati Uniti cioè non riusciamo a vivere da fratelli cioè Satana vuole come dire metterci gli uni contro gli altri si può uscire come si può uscire soltanto con con la grazia di Dio mi ha molto colpito il fatto che un uomo come Gandhi non sia riuscito alla fin fine a evitare lo spezzettamento dell'inda voluto dalla incompatibilità di vivere insieme ed è qui l'importanza anche della donna che Dio ci ha fatto dalla Chiesa come strumento di unità e di fratellanza del genere umano questo miracolo forse di vivere insieme come fratelli lo farà la Madonna nel tempo dei segreti attraverso i quali lei cambierà il mondo e il mondo vivrà in un tempo di pace ma nel frattempo noi cari amici siamo come si dice siamo nel groviglio degli interessi umani degli odi umani dei superbi umani delle prepotenze siamo in questo groviglio generalizzato dal quale non riusciamo a uscire e allora come facciamo a uscire cari amici facciamo a uscire come ci ha detto la Madonna alla fine del messaggio ci ha detto pregate testimoniate la pace nel vostro ambiente siate uomini di pace cioè noi dobbiamo dobbiamo avere fiducia in quello che Madonna ci ha detto cioè la preghiera compie miracoli nei popoli e nel mondo gli apostoli di Maria devono essere come si dice delle colonne di preghiera devono essere dei testimoni di preghiera devono essere loro in pace con Dio devono essere operatori di pace di amore di perdono insomma cari amici è la battaglia fra la Madonna vestita di sole e il dragone infernale si risolve poi di fatto in una battaglia nella quale si testimonia l'amore si testimonia l'amore di Dio la fratellanza che viene da Dio si testimonia anche la grazia della Chiesa che ha come scopo di affratellare gli uomini in un'unica famiglia insomma cari amici attraverso questa strada attraverso questa testimonianza attraverso questa presenza di Maria che è un grandissimo dono noi dobbiamo fare la fatica e sudare sangue se è necessario per far sì che il mondo veramente cambi cioè non cambia con un colpo di banchetta magica cambia costruendo mattone su mattone cuore su cuore come si dice il clima della pace e della fratellanza spirituale non abbiamo paura di dire che siamo fratelli perché abbiamo un unico padre perché in Cristo Gesù siamo stati tutti redenti perché avevamo un'unica madre che è la madre Maria non dobbiamo avere paura di sottolineare la fratellanza soprannaturale che sia fratella perché è quella che Dio vuole che Dio desidera e che Dio vuole costruire anche per il futuro dell'umanità la fratellanza in Cristo Gesù sotto il manto di Maria non ci sono altre possibilità per uscire fuori dal groviglio degli interessi delle superbie dell'odio e come si dice delle prepotenze e così giriamo pagina cari amici adesso cioè volevo dirvi dette in parole povere la Madonna c'è in mano un'arma la preghiera compie i miracoli preghiamo per la pace come lei ci ha detto siamo dobbiamo essere persone di pace e preghiamo con lei per la pace che così cambia il mondo e così cambiamo anche noi allora volevo leggervi almeno un pezzettino un pezzetto perché comunque ci sono sempre tante cose da dire una reportage da Aleppo noi da Aleppo abbiamo dato delle notizie diverse perché avendo uno studio mobile presente ad Aleppo abbiamo avuto il vescovo di Aleppo che è nostro fra l'altro una presenza una presenza quotidiana a Radio Maria come per parlare i suoi fedeli giustamente e ci ha fatto già un primo reportage di quello che è avvenuto nel terremoto adesso abbiamo la possibilità perché c'è un bel articolo di avvenire di un reportage sempre da Aleppo più ampio perché c'è l'inviato di avvenire Luca Geronico che ha fatto una visita più ampia per mettere a fuoco la situazione in cui si trova la gente di questa città che come sappiamo era già metà sventrata ed era rimasta tale a causa della guerra in quanto era diventata come dire la fortezza dello Stato Islamico poi le truppe di Putin l'hanno guardata e sappiamo che quando c'è Putin di case in piedi ne rimangono ben poche allora vediamo questo reportage che voglio leggervi almeno in parte perché è interessante dell'inviato di avvenire la squadra che deve fare il censimento dei palazzi di Aleppo per stabilire quali possono essere considerati agibili se insediati un paio di giorni fa fra i componenti pure Frere George Assab i responsabili dei Maristi Blu referenti della fondazione Marista per la solidarietà internazionale i Maristi sono una congregazione mariana unico rappresentante della miglioranza cristiana nella commissione i primi dati diffusi dal ministero della salute parlano di due milioni di persone colpite nel governatorado di Aleppo secondo una ONG l'ONG Copi oltre 100.000 abitanti sono rimasti senza casa chi ha trovato un rifugio da parenti o amici in altre zone del paese preferisce dormire in macchina o in rifugio di fortuna la terra potrebbe tornare a tremare ancora e soprattutto scale pericolanti e crepe nei muri osservate durante furtivi sopralluoghi per recuperare un vestito o qualche lira siriana fanno temere nuovi crolli qui a punto di vista politico Aleppo è diciamo siriana come lo è quella parte del nord di Idrib che però in realtà è sotto il controllo dei ribelli e sono poi quelle dello stato islamico per i quali ovviamente non vogliono non possono avere gli aiuti dalla Turchia perché non li fa passare e non vogliono avere quelle di Assad perché sarebbe loro un nemico ormai quasi nessuno scava più per cercare i superstiti mancano i mezzi e non ci sono squadre di soccorritori addestrati resta solo l'immesto conteggio di vittime che si continuerà ad aggiornare per settimane le ultime cifre parlano di almeno 5.800 morti in Siria e più di 35.000 in Turchia quindi tutto sommato diciamo la Siria è uscita ancora 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 meno peggio della Turchia perché io pensavo dai primi dati che fossero più i morti in Siria e invece lo sono più in Turchia dunque anche perché in Siria la maggioranza vive in tende quelli diciamo i liberi dello Stato Islamico i liberi vivono in tende dunque praticamente per ora il totale dei morti è di 41.000 nel dramma qualche spirale di luce arriva dalla Turchia ad Antiochia una donna e due bambini sono stati stati vivi dalle macerie dove erano rimaste per 228 ore in un epicentro del sisma a Karamal Naras una donna di 74 anni è stata recuperata dopo 227 ore la piccola Aia invece trovata viva nel nord est della Siria è stata trasferita in un luogo sicuro dall'ospedale dopo essere scampato un intento di rapimento ad Aleppo intanto emergenza umanitaria la popolazione ancora è terrorizzata e la notte si vaga per strada mentre si aspettano con rabbia crescenti i soccorsi internazionali il 7 febbraio vi dicevo appunto che non arrivano perché la Turchia non li fa passare e lo Stato Islamico non li fa passare quelli che potrebbero arrivare dal sud da Damasco il 7 febbraio il giorno dopo la scossa alla scuola dei maristi erano ospitati più di mille persone adesso accampati nelle aule sono rimasti 200 sfollati mentre si è cercato di organizzare la prima accoglienza spiega Andrea Rossi direttore dell'FMSI sono le sigle questa qui è una sigla che riguarda appunto Fondazione Marista per la solidarietà internazionale quella notte la temperatura è ascesa a 4 gradi sotto zero in una città completamente al buio il gelo e l'oscurità sono compagni abituali per gli Aleppini in una città che a causa della crisi economica e delle sanzioni internazionali ha corrente al massimo per due ore al giorno il gasolio per il riscaldamento ai generatori è razionato e comunque troppo caro per la popolazione questo mentre uno stipendio medio vale 30 dollari al mese sono 30 euro al mese a fronte di prezzi appena più bassi di quelli occidentali i prezzi della roba è come quella nostra più o meno però lo stipendio è di 30 euro al mese 30 dollari sono 30 euro ma per capire cosa sia stato un terremoto ad Aleppo bisogna considerare questo cioè che già dal primo del 6 febbraio la maggiore causa di morte fra gli abitanti della città erano i croli dei palazzi danneggiati dalla guerra edifici sventrati o ancora peggio pericolanti da quando nel dicembre del 2016 le forze governative cioè praticamente Assad con i russi vissero la betale di Aleppo iniziate nel giù del 2012 per questo in una città di 1.800.000 abitanti quando nel 2012 erano più del doppio gli sfollati erano già circa un terzo della popolazione il censimento dei palazzi agibili era già iniziato appena finito l'assedio della città ma senza mezzi e con scarso personale tecnico in grado di fare perizie poi come un colpo di maglio su un presepio di cartapesta il terremoto ha reso Aleppo una città fantasma ma intanto il Maristibur l'associazione che raccoglie più di 150 volontari ha distribuito 500 materassi 500 coperte e attivato a tempo pieno una mensa che si calcola in un mese e distribuirà 15.000 pasti servono bomboli del gas e carburante la nostra scuola consuma 100 litri al giorno di carburante per raccogli agli sfollati nell'immediato serve far arrivare soldi a parte il latte in polvere si può comprare tutto in Siria in pochi giorni ma la popolazione non ha i soldi per farlo prima emergenza mentre monta la rabbia per scavatrici o team internazionali mai arrivati ad estrarli sopravvissuti dalle macerie a causa dell'embargo ora aperti i valli che con la Turchia stanno arrivando cibo e medicine mentre da Damasco sono giunte delle ambulanze insomma ci sono problemi politici che fermano comunque gli aiuti e sono problemi politici che riguardano la Turchia perché ovviamente la Turchia dice qui sono in 35.000 i morti e trattengono gli aiuti e finora la Siria di Damasco ha fatto arrivare qualche ambulanza insomma ma il vero problema per il futuro di Aleppo è la ricostruzione impossibile anche solo progettare in un paese sotto sanzioni internazionali spiega Rossi che è appunto dei maristi di fatto sinora qualsiasi bonifico per la Siria è bloccato e qualsiasi struttura che possa essere classificata come strumento bellico viene fermata alla frontiera serve che tutti si mettono attorno a un tavolo e si cerchi una soluzione perché ricostruire una città sotto sanzioni è impossibile uno spiraglio per un possibile dialogo internazionale la decisione del Presidente Assad di permettere l'ingresso dei convoli dell'ONU nella Siria nord-occidentale in mano ai ribelli il primo aereo di aiuti dell'Arabia Saudita è un segnale di ripresa delle relazioni con i paesi arabi ma resta il nodo dei rapporti con l'Occidente è chiaro che l'Occidente ha problemi di rapporti con l'Assad che è legato a filo doppio con i russi ma nel medesimo tempo ha anche problemi con lo Stato Islamico quindi per il momento gli aiuti arriveranno o arrivano in Turchia e basta conclusione intanto i maristi blu hanno ripreso contatto con gli anziani rimasti solo in città negli anni scorsi e a cui assicuravano un pasto e un contatto umano dato che spesso i figli erano emigrati e quanto prima si cercava di riprendere a consegnare il latte in polvere i neonati un semplice piatto di sciorba la minestra tipica del Medio Oriente è l'occasione per portare un po' di affetto questa dunque è una reportage che volevo leggervi perché i nostri giornali ormai diciamo non hanno non hanno i fatti sul posto i nostri giornali venire fa eccezione anche perché comunque ovunque tu vai la chiesa è presente quindi le notizie arrivano a noi sono arrivate perché appunto abbiamo in Siria due postazioni una damasco una propria d'Aleppo e comunque fino adesso anche la nostra sede era un luogo di di accoglienza dei profughi adesso ci hanno detto che con la quarisma che incomincia la settimana prossima riprenderanno le loro trasmissioni perché alla fine alla fine la preghiera è pur sempre una grazia ed anche un grande aiuto sul piano esistenziale giriamo pagina cari amici questa era la situazione dei terremotati ad Aleppo adesso ci sarebbe tante cose da dire sulla guerra in sulla guerra in Ucraina l'ho già detto che a mio parere a mio parere la situazione è difficile quindi cioè a mio parere se la Madonna è come si vede dal messaggio del 25 gennaio è allarmata e sollecita preghiere quotidiane i sacrifici quotidiani vuol dire che le prospettive volgono al brutto dai giornali non esce questa non esce questa prospettiva anzi una delle cose più interessanti per vedere che questa prospettiva diciamo che mentre la Madonna vede nero e noi a noi danno prospettive diverse è un'intervista che viene pubblicata da Repubblica all'estirettore della CIA che è Leon Panetta un'intervista che io ho letto volevo leggerla anche a voi ma la riassumo perché è molto interessante da leggere perché praticamente sappiamo che gli Stati Uniti sulla guerra in Ucraina si muovono attraverso una mediazione del presidente Biden una mediazione fra diverse opzioni che vengono presentate a lui insomma e cioè in pratica si aiuto incondizionato i siriani ma diciamo fino a un certo punto insomma aiuti si ma non troppi questa è la linea di Biden in modo tale che non si sconfini al di là dell'Ucraina detto in parole povere e anche adesso c'è una pressione da parte di Biden perché gli ucraini almeno per il momento rinunciano alla Crimea che potrebbe essere diciamo un obiettivo irraggiungibile però è interessante questa intervista a Panetta che è il direttore della CIA perché lui pensa che se si dà a a a a Ucraina gli aiuti e richiesti non solo i carri armati ma anche gli aerei secondo lui entro la fine dell'estate la guerra potrebbe finire e Putin sarebbe obbligato a scegliere fra una sconfitta o un negoziato questa dunque è la prospettiva diciamo non so se è la prospettiva non so se questa è la prospettiva di Biden non credo anche negli Stati Uniti ci sono critiche a questa posizione tant'è vero appunto che si è fatto osservare che alla fine si rischia in questo modo proprio anche la Nato stessa che ha avanzato questa ipotesi si rischia che a lungo andare in Ucraina ci sia una guerra infinita quindi questa posizione cioè anch'io sono critico verso questa posizione che per me è facilona cioè che si possa ottenere una vittoria sulla Russia entro la fine dell'estate perché la Russia comunque ha risorse umane e risorse materiali molto superiori all'Ucraina soprattutto risorse umane e lo si vede al fronte dove adesso comunque i soldati russi sono ritornati a tre contro uno e quindi gli ucrani fanno fatica a difendere la linea del Donbass perciò non so come dire poi c'è sempre la prospettiva che se la Russia diciamo non so fino a che punto accetterebbe una sconfitta non credo non so tenendo presente i precedenti di Napoleone e di e di Hitler nei piano insomma a parlare di una vittoria entro la fine dell'estate quello che volevo dire di questa che per me è una ipotesi sviante cioè bisogna trovare comunque ve lo ho già detto essere realisti e pregare la Madonna perché ci concedono un cessato il fuoco e si possa perlomeno realizzare quello che si è realizzato in Corea questa mi pare a mio parere è una prospettiva che potrebbe realizzarsi poi molto dipenderà anche dalle nostre preghiere allora io non vi leggo l'intervista di Repubblica Pavetta invece vi leggo una specie di testimonianza pubblicata da Avvenire un paio di giorni fa che mi ha inviato anche un nostro ascoltatore dicendomi di considerarla anche per la lettura evidentemente vale la pena leggerla è un oppositore di Putin in carcere che ha rilasciato dichiarazioni che sono finite sulla stampa almeno su Avvenire la pubblicata vale la pena leggerla perché c'è anche un'altra possibilità alla fine che sarebbe quella migliore che in Russia a tuo momento prevalga come si dice un cambiamento politico che sia di carattere democratico in modo tale che possa entrare anche la Russia diciamo in una a meno quella europea in un clima non più di opposizione di sistema a sistema ma di collaborazione con l'Europa allora vediamo questo programma di Yashin che dice non confondete Putin con i russi e non lasciate solo chi si oppone cioè praticamente Putin è Putin ma i russi sono i russi non si può Putin non è diciamo è rappresentante di una casta che può essere anche rimossa vediamo il testo che accompagna queste brevi note poi ve lo leggo il testo è una lettera scritta da Ilya Yashin nel carcere in cui era inchiuso dalla scorsa estate da alcuni giorni rimbalza da un account digitale all'altro soprattutto in Russia ma non solo lì ed è stato già stato ripreso in occidente il quotidiano britannico Time Yashin oppositore politico di Putin è in carcere con l'accusa di aver diffuso notizie false per aver fatto circolare informazioni su quanto sta accadendo con la cosiddetta operazione speciale come la Russia chiama l'invasione dell'Ucraina e per aver espresso aperta condanna per l'aggressione russa all'Ucraina il suo messaggio fa bandan con quanto sostegno gli oppositori che sono rimasti nel paese e qui li elenca tutti eccetera e Yashin con la sua scelta di restare in Russia e obiettare pubblicamente andando incontro alle conseguenze durissime della giustizia putiniana cioè praticamente carcere per anni e anni e anni lui con questa testimonianza vuole dare sostegno a chi vuole una Russia diversa in modo tale che poi una Russia diversa e più democratica possa prendere in mano il proprio futuro questa era la presentazione che fa avvenire di questa lettera di Ilya Yashin che è un oppositore di Putin scrive tra non molto sarà passato un anno da quando è iniziata la guerra scatenata dal Cremilino contro l'Ucraina questo ha provocato la perdita di decine e migliaia di vite umane distrutto in telecittà e trasformato milioni di famiglie in profughi Vladimir Putin responsabile di questa tragedia è diventato un vero e proprio simbolo del male scrive e perciò viene maledetto in tutto il mondo ma sembra che sempre più spesso a diventare oggetto di ostilità sia anche il popolo russo la principale accusa nei confronti dei russi è di non aver fatto resistenza alla politica aggressiva del proprio governo il che lo porterebbe a essere complici dei crimini di guerra mi chiamo Ilya Yashin sono un politico dell'opposizione russa che è stato imprigionato dal Cremilino nell'estate del 2022 sono stato condannato otto anni e mezzo di carcere perché mi sono pubblicamente opposto alla guerra con l'Ucraina ma oggi voglio dire qualche parola in difesa del mio popolo quindi l'invito a non confondere la casta al governo della Russia col popolo russo per prima cosa noi resistiamo dall'inizio dell'invasione per tutto il 2022 la polizia ha arrestato quasi 20.000 oppositori della guerra oppositori in Russia secondo gli attivisti per i diritti umani dal 24 febbraio ad oggi le protezze sono diventate quasi quotidianamente sono diventate quasi quotidiane in diverse città e solo 18 giorni del calendario sono trascorsi senza detenzioni e arresti da quando la guerra è incominciata e continuiamo a vedere esempi sorprendenti di coraggio civico preso all'operario Vladimir Rumyanschev che ha ricevuto una condanna di tre anni in carcere per aver organizzato una stazione radio amatoriale attraverso la quale trasmetteva informazioni contro la guerra come al deputato di Mosca Alexei Gorinov che è stato mandato in prigione per sette anni dopo aver proposto in una riunione nel comune della capitale di dedicare un minuto di silenzio in ricordo dei bambini ucraini morti in secondo luogo le persone fugono da Putin nell'arco di questi 12 mesi fra un milione e un milione e mezzo di cittadini hanno lasciato la Russia e la stragrande maggioranza di loro è emigrata perché non vuole essere coinvolta nell'aggressione militare vorrei attirare la vostra attenzione sul fatto che almeno il doppio delle persone che ha lasciato la Russia rispetto a quelle sinure mobilitate per la guerra cioè per la guerra per quelle mobilitate per la guerra sono circa settecentomila cioè trecentomila più cinquecentomila sono ottocentomila da unirsi a quelle che hanno fatto l'invasione iniziale quelle che invece hanno emigrato dalla Russia sono un milione e mezzo quindi sì probabilmente si possono rimproverare coloro che hanno preferito la fuga alla resistenza alle prigioni e alle torture ma sa di fatto che centinaia di migliaia di miei compatrioti hanno lasciato la loro casa non accettando di diventare assassini su ordine del governo terzo che rimane in Russia vive come un ostaggio molti disapprovano la guerra ma tacciano per paure di rappresaglie tuttavia il silenzio di un ostaggio contro il quale è puntata la pistola di un terrorista non lo rende complice di un terrorista voglio evitare la comunità internazionale a essere saggia astenetevi dall'umiliare i russi perché questo genere di retorica non fa altro che rafforzare i poteri di Putin scaricando la responsabilità dei crimini di guerra della giunta del creminino sul mio popolo si sminuisce la responsabilità morale e politica di Putin gli si offre l'opportunità di ovviare alle giuste accuse di persone che di fatto in questo quadro diventano suoi ostaggi inermi scudi umani ritengo che questo sia un grave errore cioè l'invito a considerare diciamo la resistenza di una parte significativa del popolo russo compresa anche quelli che se ne sono andati all'estero è tale da comunque far sì che l'opinione mondiale si astenga dalle mondiali russi che sono incolpevoli di ciò che viene fatto da chi ha il potere Putin ha portato grande dolore al popolo ucraino ma con questa barbara guerra sta uccidendo anche il mio e il nostro paese la Russia credo che i russi possano diventare alleati del mondo libero contro il tiranno tendete la vostra mano e mei concittadini dal carcere SISO 1 di SISO 1 di Usmuzia è un politico di opposizione si chiama Ila Yashin ha scritto questa lettera rivolta ovviamente all'opinione pubblica occidentale di distinguere fra chiamo pure il gruppo al potere che è il vecchio gruppo del KGB non sono altri sono gli escomunisti questi difatti vedete come vanno d'accordo amore amore a prima vista o non so con Xi Jinping il quale appena qualche settimana fa ribadito che l'ideologia del partito comunista cinese è quella marxista leninista quindi vanno d'amore d'accordo ma appunto questa lettera ci dice che il popolo russo vorrebbe altro poi è chiaro che in Russia mancano informazioni la gente beve quello che lo Stato gli dà da bere ma come vedete che la conclusione di questa lettera credo che i russi possano diventare alleati del mondo libero contro il tiranno ecco questa dunque è la pubblicata a venire sui giornaloni non l'ho vista non so per qual motivo ma io invece la condivido perché ovviamente sappiamo che sappiamo che la gente comune comunque come sempre dice anche il Santo Padre la gente comune ovunque nel mondo non vuole la guerra insomma le parole povere chi vuole la guerra sono quelli che hanno convenienze a farla il popolo comune non ha nessuna convenienza a farla guerra bene carissimi giriamo pagina adesso siamo arrivati al blog che sta mandando molto bene cioè nel senso che è diventato è diventato ormai per tanta gente parecchie decine migliaia di persone di cui il 10% è fuori dall'Italia che diciamo perché è uno strumento di informazione innanzitutto e anche di dialogo perché comunque non conto le lettere che devo leggere ogni giorno poi le pubblico qualche d'una ma anche sulla sulla quello che ho letto ieri ieri vi ho letto la lettera di Ornella mi sono arrivata a meno una quindicina di email che condividevano questa bellissima lettera di Ornella e anche oggi me ne è arrivata un'altra che sono sicuro che scatenerà l'interesse di tanti allora però prima volevo darvi una notizia perché siccome mi arrivano diversi email che me la chiedono dunque io vi avevo promesso di preparare un libro di informazione ma soprattutto di informazione per gli apostoli di Maria chi sono gli apostoli di Maria? sono quelli che hanno risposto alla chiamata comunque di cui la Madonna si servirà adesso ma soprattutto nel tempo dei segreti allora vi pubblicherò poi in giornata questa lettera che mi è arrivata di Paolo così ne approfitto anche per informarvi su quando uscirà il libro allora un nostro ascoltatore stamattina mi ha inviato cioè ieri sera mi ha inviato questa domanda buonasera Padre Livio mi chiamo Paolo ho 56 anni e ascolto Radio Maria dal 1989 bravo le chiedo se sia solo un'utopia quella di creare un gruppo operativo di apostoli di Maria che abbiano il compito durante il tempo dei segreti di testimoniare attivamente per le strade nelle parrocchie in ogni angolo in ogni altro luogo il piano non servifico della Madonna grazie Paolo allora io gli ho risposto da due righe ma adesso la pubblico questa lettera perché così almeno vi avviso caro Paolo come sappiamo la Madonna ha dedicato numerosi messaggi del 2 del mese a Miriana per formare gli appositi del suo amore come lei li chiama chi sono questi sono tutti coloro che hanno risposto alla chiamata e che si mettono alla sua disposizione della Madonna per realizzare il suo piano di salvezza il loro compito è soprattutto di testimoniare la presenza di Maria in mezzo a noi con la testimonianza della fede della speranza e dell'amore io credo che possano raggrupparsi in piccoli gruppi di preghiera avendo sempre i messaggi della legge e della pace come punto di riferimento per questo motivo e questa è la notizia che vi do ho preparato un libro per la loro formazione e la loro informazione che uscirà fino agosto del 2023 cioè praticamente dopo l'estate il libro avrà come titolo Apostoli di Maria sottotitolo come esercito schierato a battaglia è una frase del Cantico dei Cantici quindi rispondo a tutti quelli che mi chiedono informazioni a questo riguardo che il libro Apostoli di Maria uscirà a fine agosto sarà intitolato Apostoli di Maria sottotitolo come esercito schierato a battaglia è una frase del Cantico dei Cantici poi ovviamente a settembre ottobre lo leggeremo e lo spiegheremo anche in radio credo che sia importante perché se no cari amici vedo che scusate questi colpi di tosse ma siamo d'inverno vedo che si rischia cioè la nostra radio se la Madonna l'ha voluta credo che l'abbia voluta proprio lei deve assolvere anche al compito di in qualche modo informare e formare è ovvio e quindi per quanto mi riguarda mi assume questo onere per quanto è possibile insomma col vostro aiuto e allora ho fatto questo libro e altri ne seguiranno allora ieri adesso vado veloce ieri Ornella mi ha scritto dicendo sentiamo qualcosa di grave che sta per accadere lei ha questa sensazione e su questa sua breve lettera io ho fatto una risposta eccola è Ornella da Fornì caro Ornella la sua sensazione che stia accadendo qualcosa è anche la mia ma la vivo nell'attesimo di ciò che la Madonna ha svelato e che certamente si realizzerà Satana certo è in attesa di sferare l'attacco e nel frattempo cerca di sviare e di addormentare quelli che dovrebbero pregare e vigliare la sua tattica non cambia ed è la medesima del Gezzemani quando prima di assalire Gesù ha paralizzato gli apostoli perciò appunto proprio perché abbiamo questa sensazione che qualcosa stia per accadere gli apostoli di Maria devono pregare e vigliare per trovarsi pronti nell'ora che Dio ha stabilito chiaro? e questo è anche il compito della radio il compito anche del blog che ho fatto proprio per questo anzi come già vi ho detto e incomincerà presto sto dando gli ultimi ritocchi una serie di di testi che poi voi leggerete che proporrò uno o due volte alla settimana che delineano un percorso di conversione per tutti quelli che sono ancora nella palude del mondo senza Dio e che se non escono fuori rischiano grosso e allora traccerò appositamente per tutti questi un itinerario di conversione intanto però ieri sera mi è arrivata una lettera da Chiara Perugia che sicuramente mi ha fatto pensare molto e sapevo qualcosa da Beata e l'era Iello ho letto anche ma mi era sfuggito un particolare cioè che praticamente le profezie di Sorraiello che ha detto negli anni sessanta in pratica e che riguardano il dilagare della Russia in Europa fino a conquistare il Vaticano alla fine si collocano nella profezia di Fatima sul ronti cristico della Russia quindi non sono da liquidare come fanno alcuni come profezie ormai scadute perché riguardano i tempi del dopoguerra sono profezie che potrebbero essere invece validissime per oggi allora vediamo questo che ha scritto Chiara di Perugia che è molto interessante il titolo è appunto una frase della Beata Sorraiello cioè la Russia pianterà la bandiera sulla cupola di San Pietro carissimo padre Livio grazie per il suo infaticabile apostolato e anche per l'iniziativa del blog molto preziosa anche per lo scambio di idee ed esperienze che promuove dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia circolano sempre più in internet le rivelazioni della Beata Sorraiello che riguardano la Russia la ragione sotto a controllare è vero ne riporti in particolare una per avere un suo parere al riguardo vediamo queste rive che ha riportato sono le parole della Madonna che è apparsa la Beata che dice la Madonna siamo il 27 marzo 1959 Roma sarà punita l'Italia sarà tavagliata e umiliata la Chiesa sarà perseguitata il Cristo in terra cioè il Papa dovrà tanto soffrire a quante rovine andrà incontro il grege sta per disperdersi quante anime sacerdotali sono uscite fuori dall'ovile tutto verissimo pregate incessantemente perché l'ora è vicina affinché l'umanità conosca i suoi errori poi attenzione alla profezia la Russia sorgerà su tutte le nazioni specie sull'Italia e pianterà la bandiera sulla cupola di San Pietro e la basilica sarà circondata da leoni tanto feroci la mia parola è chiara il mondo si perde prima di quanto si pensi il mondo si perde cioè perde se stesso prima di quanto si pensi questa è la profezia del 27 marzo 1959 sono le parole della Madonna poi nel 22 agosto 1960 c'è anche questa il papa dovrà tanto soffrire il leone urgente cioè la Russia avanzerà sulla cattedra di Pietro capito avanzerà sulla cattedra di Pietro cioè metteranno un papa loro forse metteranno Kirin non lo so il leone urgente avanzerà sulla cattedra di Pietro per diffondere i suoi errori il fine della Russia venerà tutte le nazioni specie d'Italia 22 agosto 1960 allora io ieri ho dovuto ovviamente ieri sera andare a cercare e ho visto che c'è un internet ci sono con chiarezza tutte queste profezie e quindi io dovevo dovevo fare un bilancio e dovevo dare la risposta a questa domanda perché Chiara di Perugia mi chiede alla fine non pensa Padelivio che questi eventi possono far parte di qualche seguito di Međugorje allora io ho diciamo dato la mia risposta come io la vedo e ovviamente mi complimento con me stesso perché se vi ricordate il primo editoriale che ho fatto quando la Russia il 24 febbraio del giorno scorso ha invaso l'Ucraina io ho fatto un editoriale con scritto diventeremo tutti ortodossi punto di domanda ad ogni modo quello che io la domanda che mi ha fatto chiare è molto chiara è molto semplice lei crede che queste profezie dalla Madonna alla beata suor Elena Aiello possono far parte di qualche seguito di Međugorje io ho risposto andate a vedere la mia risposta sul blog per chi usa google è blog di padelivio punto it chi usa il nostro sito redomedie.it in alto a destra c'è blog di padelivio potete entrare perché c'è diciamo la foto del blog cliccate ed entrate e vediamo quale valore dare a queste profezie e cioè la Russia pianterà la bandiera sulla cuba di San Pietro alla beata e al naiello date negli anni 60 si possono liquidare come profezie già superate come fa qualcuno o hanno invece un aggancio con i segreti di Međugorje aspetto anche le vostre considerazioni che molte volte la sapienza è proprio dalla parte della gente semplice con questo abbiamo terminato la nostra lettura cristiana della colloca della storia è scaduttissimo il tempo però devo dire un grazie di cuore a quelli che sostengono la rio Maria a volte mi commuovo perché vedo che ce la state mettendo tutta per aiutare la reddita della Madonna e sono tempi in cui bisogna veramente fare dei sacrifici anche per la radio della Madonna come si è sempre fatto in passato d'altronde e fra poco la catechesi sul nostro libro di catechesi bellissimo libro di catechesi tempo di fortezza fra poco grazie a tutti